Senta, Assessore, lei è il consigliere comunale? Ecco, noi stiamo facendo un'inchiesta sull'esecuzione del colonnello russo che è avvenuta a pochi chilometri da qui. Venga, Assessore. Noi stiamo organizzando, stiamo discutendo il caso del colonnello russo la cui esecuzione è avvenuta a pochi chilometri da qui. Lei ha saputo che poco distante da qui hanno assassinato il famoso colonnello dei carabinieri russo? Siamo riso, sì. E questo significa che la mafia è ancora molto potente qui, lo è? Serto, perché per fare questo fatto si sarebbe qualche cosa. Ci vuole potenza. Dico, la potenza è di chi ha avuto il coraggio di ammazzarlo? Per forza, se non aveva il coraggio non si faceva questo fatto. E secondo lei chi è che dà questi ordini? Ah, chi lo sa. Non è la mafia? Non si sa. Non si sa? Non si sa.